Ragazzi scusate una domanda dove mangiare la cucina messicana più buona di tutta a Bari Vai vai domanda da un milione di euro eh Dove sono stati l'altra sera? Ah da Maxalito Maxalito? Ok perfetto prendo appunti e vado a provarlo adesso Voi volete venire o non lo so? No più tardi Più tardi Più tardi stare a dieta va bene dai Buona serata Spoiler questo è un posto folle Figati non è un semplice ristratto messicano Io sono in paradiso O meglio forse dovrei dire in Messico Infatti qui trovi tutti i piatti più porcosi messicani Burrito tacos super ripieni ma soprattutto Facitas piatto più tipico di questo non ci sta Ah godo è praticamente un tagliere composto da tortillas da farcire con folle e fagioli E ve le componete voi cioè sta cosa è un sacco soddisfacente Super divertente e buonissimo perché Sta cosa ti intrippa un sacco perché dici ah cazzo l'ho fatto io quindi sta roba ti ti rende un uomo più contento ecco Comunque con tutto questo cibo mi sento in Messico E in tutto ciò mi sa che gli sconosciuti ci avevano ragione E mi raccomando fammi sapere qui sotto nei commenti se ti piace la cucina messicana